buon salve amiche di pixelini io inizio questo gioco a testa in giù nell'ultimo puntato abbiamo fatto un sacco di casini quando non riuscivamo ad andare avanti non riuscivamo a fare cose e ora finalmente siamo riusciti a prendere e a spostarci in quest'altra parte finalmente, meno male veramente non ne potevo più andiamo qui e siamo ai cose magici ragazzi fantastico entriamo non è andata proprio così non è per niente andata così con questi due che l'hanno portato qua tipo no no direi che qual quadra non cosa ragazzi ma proprio di brutto ah che bello ci prendiamo tutte le cose non possiamo essere visti non sto capendo vuole rubare è un ladro oh no sono usciti i frisbee zannuti ragazzi che distruggono tutto dobbiamo aggiustare tutto oh no di nuovo aggiustare tutto il negozio ma oh ma ok va bene avada che lavora tutti salve cosini mettiamo a posto cosini salve prego e lo farei io eh ma il negozio non era vostro lo dovevo lavorare io avadoso avada che davro per fai rientrare le cose nella loro gabbia e come faccio salve mi rientrate nella gabbia per favore salve rientrate nella gabbia ho spaventato l'oca dentro la gabbia ragazzine dentro la gabbia su 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 nella gabbia anche tu puscoso vai qua nella gabbia ciao maledetti datela su in cima state in prigione in prigione oh no ora arrivano i frisbee aiuta i gemelli weasley colpendo i frisbee zannuti vada che davra che davrosa si li sto colpendo ma non funziona niente dovevo colpirli con questo no avadosa grazie grazie potrei colpirli forse così ah colpito perfetto distrutto uno ok bisogna mirare e colpire mirare e colpire qui aggiustiamo tutto perché insomma ovviamente facciamo tutto noi come al solito in questo gioco così come in tantissime altre cose intanto ci becchiamo le monetozze che mi sembrano cose buone utile e si vado qua davanti e faccio cose ci sto giocando e succedono cose che in una specchietropoli qua lasciamoli stare per ora poi mi serviranno probabilmente per qualcosa la pozione d'amore la lasciamo stare qua per ora qui non c'è nulla da progettare no invece no ci sono cose da fare qua tipo distruggere distruggere prendere monetozze fare cose preparare la pozione d'amore per prendere il controllo di veliti la 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 tipa non so che sia forse la paperella allora io posso anche prendere questa cosa ma dove la metto cioè non ho un calderone non ho un calderone un calderone mi serve io non ce l'ho e quindi ci faccio questa cosa oberginci bo non ho un calderone salve salve a un calderone salve non ho un calderone porca di quella paleta non ho un calderone salve salve non posso entrare di qua non ce l'ho un alomora immobilus vingardum leviosa lumos non ho un alomora mi sa molto molto male sono un po' triste non ho un alomora va bene d'accordo e io distruggo cose distruggo cose vedo gente e mi prendo le monetozze le monetozze salve sei un po' spaventato ma io volevo passare vabbè non si può passare però posso premere cose qua tipo far uscire il vomito dalla statua che mi da l'innis l'innis vabbè la giacca e qui non posso passare qui però posso tipo svegliare la peperella la avevo svegliata con quella tipa lì però posso fare cose qua ah qui forse devo preparare la pozione d'amore ragazzi fatemi un po' vedere prendiamo questo e portiamolo qui no non è la pozione questo è l'altro ingrediente è l'altro ingrediente ragazzi ma veramente e vabbè qui io non so che altro fare non so come fare anche qua ora mi becco una bella punizione qua la tipa dorme e ragazzi è un po' è un po' così il gioco è un po' un po' struns eh per così dire a questo punto però potrebbe essere una buona idea mettersi gli spettrocoli che ti fanno vedere cose in più cose strane che uno normalmente non vedrebbe tipo eh tipo queste cose qua per esempio quindi questo forse è calderone no non è calderone però è un candelabro credo quindi cose strane che mi dà delle monetozze e che io posso fare delle cose in più tipo anche questo qua lo metto a posto e lo aggiusto tipo un'altra specie di candelabro eccolo lì e a quel punto c'ho il calderone dove posso andare a prendere questo andarlo a mettere qua dentro e uccide la pozione che mi sa che voleva prima quell'altro che non so ho messo eccolo qua salve permesso salve eh si ok ho preso quello non ho mai visto non so cosa sia non so dove sia non l'ho mai visto non c'è da nessuna parte ragazzi non esiste poi io sparo cosa a caso non mi dà emoidolze salve 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 eh ragazzi quel pezzo lì non so dove sia non c'è ah come non c'è questo cos'è scusate ragazzi che cos'è è quello che mi serve è esattamente quello che mi serve però non riesco a infilarlo dentro ho infilato dentro e finalmente possiamo creare la pozzoncina d'amore blum 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 prendiamo la pozzoncina d'amore credo ci ha dato un quadrato ci ha dato un quadrato che ci faccio il quadrato lo diamo a lei il quadrato salve tenga oh amore mio oh si mi ti faccio uh sono diventata verity perfetto quindi posso tipo passare perché ho la chiave clac 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 ok perfetto salve io ho preso un sacco di cose sono innamorata uh come è bello Harry oh no sta per distruggere tutto i frisbee zannuti devo aiutare tutto e quindi mettiamo a posto la polvere peruviana tac a posto mettiamo a posto la polvere peruviana 2 tac a posto mettiamo le monetozze nel mentre andiamo a mettere a posto anche la polvere peruviana numero 3 tac a posto altre pulizioni cioè altre cose belle io sto notando che qua c'è della roba che non che secondo me esplode esplode uh un altro mino oh sono veriti ok questo non capisco cosa fa ma io li faccio così non succede niente va bene passo dalla parte opposta non posso passare dalla parte opposta ho passato di qua e quindi che succede? Fred e Giorgio Weasley possono utilizzare i loro dettonatori ah ok vediamo un po' ma non sono Fred e Giorgio Weasley io sono soltanto Harry sono solo Harry sono solo Harry ragazzi ah però posso passare così ok perfetto salve Fred posso parlare con te no Giorgio Weasley ora fa parte il tuo gruppo oh sì che posso parlare con te perfetto 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 quindi siamo subitissimo Giorgio Weasley andiamo a cercare assolutamente le cosine carine tipo questi qua i dettonatori li primiamo questi vanno qui e poi schioppano tac mamma mamma mao ragazzi ah ce l'abbiamo fatta un cappello bello un cappello un cappello mettiamo a posto qua ragazzi ah eccoci qua mettiamo tutto a posto non volevo far esplodere il coso salve scusate boom ok è esploso salve salve monetozze uh per poco andiamo qui che possiamo fare altre cose qua tipo mettere a posto la caramella il tipo ma non volevo ok facciamo che cambiamo esplodio facciamo che cambiamo cosa ecco tu fai così uh vingardium manjorus questa mangia 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 ancora va quanto mangio mamma mia mangia ancora un po' va mangia 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 devo farlo per sempre questa qua forse perché ci vuole qualcos'altro mi sa c'è un bussante ma ancora mangia cicciona cicciona e torniamo al nostro detonatore qui plup plup ho detto plup plup mi sa che questo non riusciamo a distruggerlo sapete io ci riprovo mi butto qua sotto puff no niente troppo piccolino ragazzi troppo piccolino non ce la può fare ah perché prima devo fare così vingardium buttorus di sotto vingardium buttorus di sotto e ora ho liberato il coso e posso tipo posso tipo distruggere il tipo ah vada che davroso ok l'ho distrutto perfetto ora abbiamo anche fred o gorge o chiunque di due ragazzi non lo so sono completamente uguali ragazzi ok possiamo scendere giù tecnicamente perché ci ha salutato ci ha detto di venire giù quindi scendiamo giù andiamo e possiamo forse uscire dal negozio mamma mamma mao ce l'abbiamo fatta ragazzi abbiamo salvato fred jorge weasley perfetto torniamo a rie andiamo di qua direi ragazzi che per oggi il video si può concludere qua ci vediamo nella prossima puntata di harry potter lego harry potter anni 5 7 salvevamo tutto e mamma mamma mao mi raccomando ragazzi questo lo faremo la prossima volta andiamo a vedere il video che magari la prossima volta non ce lo farà rivedere giusto per vedere che un libro di pozioni lo voglio io il libro di pozioni vabbè poveri noi poveri noi io mi beccherò quello brutto e tu ti beccherai quello bello però quello brutto è quello bello in realtà perché io farò un sacco di cose salve non ci arrivo al libro guardatela felix felices c'è un libro distrutto che schifo lei è molto indaffarata queste cose qua mamma mia che schifo è tutto distrutto ma ce la potrò fare ma tutto questo lo faremo nella prossima puntata di lego harry potter direi che per oggi è tutto che altro dire fatto il misgatto mi raccomando di iscrivervi al canale di iscrivervi al canale grazie a tutti